Sei in gamba, Yuri! Vado subito! Yuri, questo cantiere è più fasullo degli orologi che vendono a Times Square. Non ho prove per chiedere un mandato. Se entri, sarai solo. Non sarebbe una novità. Con tutto il rispetto per il boss, ma continueranno a pagarci come sempre. Come puoi dire una cosa del genere senza mancare di rispetto? Era per dire, ho gli alimenti. Sì, sì, tutti abbiamo le bollette. Il capo non ci ha mai abbandonati e non inizierà ora. Ma gli hanno congelato i veri. Certo, quelli che hanno trovato. Ma è solo la punta dell'Iceberg. E non parlo solo dei veri. Perché le guardie. Quelli lavorano per uno stipendio da parte. Hi! I sono stati spirituali... Non andiamo capire i... Tre'e a chiudono le ossia, hato? Unфetto! S scherzo! Vai! Usa! Su ma io! Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.